Si trova nei pressi di Piazza San Giusto, nel comune di Lucignano, la nuova colonnina di ricarica elettrica per i veicoli installata da Estra. Sarà attiva 24 ore su 24 ed è dotata di due prese. Il pieno sarà gratuito per sei mesi. Estra da tempo si confronta con l'ambiente occupandoci di energia che è un tema strettamente legato. Qui assolviamo questa necessità doppiamente perché si parla di ricarica elettrica, si parla di una mobilità che dobbiamo incentivare a livello aziendale. Oggi inauguriamo la quarta stazione di ricarica, in questo caso è una ricarica veloce, doppia, consente di ricaricare due macchine, H24. Si può prenotare la ricarica con la nostra app e la cosa più bella è che sarà gratuita per i prossimi sei mesi. Purtroppo siamo in un periodo che non prevede tanto turismo ma vedremo magari di rinnovare l'offerta anche in seguito. Un contributo importante per un'amministrazione capace che sia sempre distinta per grande attivismo anche nei nostri confronti perché la collaborazione è sempre stata veramente positiva. Se guardiamo il nord Europa, quello che ci può insegnare su questo ambito, sulle politiche green, è la mobilità elettrica molto più sviluppata. E vediamo anche oggi noi turisti che frequentano l'Ucignano, l'ultimo anno è quello che è stato, ma vediamo sempre più una presenza di auto elettriche con targa straniera. Quindi crediamo anche questo che possa essere un'attrazione per i turisti. Per quello il nostro obiettivo è quello di andare a potenziare questo servizio perché può essere un'altra calamita per attrarre i turisti oltre alla bellezza del nostro borgo. Il progetto è nato in concomitanza sia tra l'amministrazione comunale che Estra. Credevamo questa cosa, abbiamo avuto la fortuna e Estra ha creduto in noi in questo progetto e quindi insieme siamo riusciti a portare a termine l'installazione di questa colonnina. Questo è un settore che abbiamo capito, insomma, volete sviluppare sempre di più? Assolutamente sì, la colonnina elettrica è un punto di partenza per ciò che riguarda il lavoro green del gruppo Estra. All'interno dell'offerto abbiamo anche le bici elettriche, il monopattino elettrico e tutto quello che sarà in futuro qualcosa di innovativo che abbiamo già in mente e che applicheremo a brevissimo. 14 le colonnine già installate, quando arriverete nel comune capoluogo? Spero presto, cominceremo sicuramente dalla nostra sede che, se l'avete notato, è in ristrutturazione da un paio di anni e con calma cercheremo di fare anche quella stazione lì. Poi c'è da fare, secondo me, un discorso per Arezzo che, a mio avviso, ha un sistema di stazioni di ricarica notevolmente datate, un parco veicolare oggi in dotazione ad Atam che potrebbe essere rivisitato. Più volte ci siamo confrontati con l'amministrazione e spero che un domani si riesca anche a proporre una progettualità un pochino più importante, adeguata, al di là di questioni simboliche.